La linea che oggi inauguriamo è una linea ultramoderna, totalmente automatizzata, con le tecnologie più innovative, molto sicura. Poi quando torni a Milano è sempre un'emozione diversa. Spero che in questi otto mesi si sia notato il fatto che cerco di applicare alla guida del Ministero il rito ambrosiano, quindi con concretezza, speditezza. L'abbiamo attesa ma oggi ce l'abbiamo, quindi siamo contenti di averlo. Unisce l'aeroporto di Linate col centro di Milano. Milano diventa una città completamente europea, l'avanguardia tra le migliori aree urbane d'Europa. Grazie. 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 Grazie.